Allora con Luca Cappelli il miglior giocatore di questa bellissima partita da Cacinato e Sirmione Luca vinci come premio ed è un premione una polizza assicurativa di Ares, il nostro main sponsor potrai andare a ritirarla nel loro studio in settimana quindi complimenti, te lo sei meritato perché comunque entrare dalla panchina e ad essere così decisivi non è da tutti, poi tu giochi anche arretrato insomma si è entrato gol e assist per Nianzu un bel ingresso ma vi ha detto qualcosa di particolare il mister negli spogliatoi perché siete entrati nel secondo tempo con grande carica anche se già nel primo avete costruito molto Ma il mister a fine primo tempo ci ha detto gli schemi dove dovevamo metterci in campo sapevamo il nostro compito e l'importante era entrare in campo e spezzare la partita almeno riuscire a arrivare al pareggio Qualche rimpianto c'è però, detto che l'episodio finale abbiamo già parlato con i due allenatori, lascio a loro l'analisi sicuramente lascia un po' di amaro in bocca al Sirmione però voi avete costruito tanto nel primo anche nel secondo cioè lo considero un punto guadagnato, sono due punti persi Allora per come si era messa la partita è un punto guadagnato però secondo me per come stiamo andando sono due punti persi perché il nostro compito oggi secondo me era vincere la partita però sono contento comunque del risultato perché comunque stavamo sotto 2-0 e sono contento del 2-2 Raccontaci di quest'annata calcinato, siete in tanti, una squadra comunque forte hai comunque un altro giocatore come Colosio, molto giovane Colosini, lapsus mio, del 2005 molto bravo, è stato ragione dell'Inter quindi giochi un po' tu, giochi un po' lui vieni qui dopo una carriera che ti ha visto arrivare fino in Serie D e dopo purtroppo un infortunio ti ha... Due infortuni sono sempre stato qua calcinato, ho avuto l'opportunità di provare in Serie D a Calvisano e purtroppo però mi sono rotto il crociato, sono tornato qua e sfortuna vuole che anche quando sono tornato qua mi sono rotto il menisco però comunque sono contento che quest'anno fortunatamente sta andando tutto bene e spero che continui ad andare tutto bene Senti l'abbiamo chiesto anche al mister continuate a guardare in alto verso la prima oppure inizi a pensare che questi sei punti che avete perso con i tre pareggi dopo la ripresa, dopo la pausa siano adesso un gap che è difficile riuscire a colmare nelle ultime dieci giornate No, secondo me il nostro obiettivo deve essere sempre quello di arrivare in prima perché comunque abbiamo ancora anche l'opportunità della cupa perché siamo ancora in corsa e secondo me non dobbiamo mollare tutte le speranze perché abbiamo ancora possibilità Ci racconti il primo gol, sei arrivato bene su un cross di Berta che secondo me era indirizzato a Gnanzu però tu c'eri Ma ero lì fuori aria e mi sono sentito adesso devo entrare che se magari arriva dietro devo buttarla in porta e fortuna vuole che mi è arrivata giusto lì nei piedi Non ti era mai capitato? Primo pallone toccato dalla partita gol E' anche il mio primo gol nei grandi Oggi è il primo gol Meritato quindi, complimenti Luca Allora Polizzare, se la ritirà in settimana e in bocca al lupo per il campione Grazie mille altrettanto